il lambrusco mantovano guarda qua che meraviglia sembra di essere in paradiso perché perché adesso andiamo a scoprire il lambrusco bio consigliato col diretti per fare poi un piatto eccezionale siamo qui a pegognaga all'azienda pacchioni di giovanni pacchioni perché qui fanno il lambrusco come si deve il lambrusco mantovano tra i più buoni forse in assoluto andiamo a scoprirlo andiamo a scoprirlo quindi siamo con giovanni pacchioni di questa azienda agricola che fa lambrusco qui a pegognaga lambrusco mantovano che si differenzia un po nelle zone anche a seconda del tipo di terreno qua un terreno argilloso quindi ha caratteristiche diverse di un lambrusco che è sempre più richiesto sul mercato anche per la qualità del tipo di lambrusco qua si fa un lambrusco diciamo tra virgolette di un grado superiore con un po più di profumo più di qualità un po più di cura no se non sbaglio esatto questo è dato praticamente come abbiamo appena detto da questo terreno argilloso e questo proprio ha queste caratteristiche di esaltare le qualità del vitigno quindi che poi viene tramutato in uva diciamo che il cliente finale appunto sia accorto di queste di queste differenze e apprezza praticamente proprio questi questi vini è una zona molto vasta questa qua del lambrusco cioè si va qua siamo vicini anche a reggiano in sostanza comunque c'è un marchio cioè col diretti ci manda qua come lambrusco mantovano e lambrusco mantovano ha una sua identità si può dire certo certo forse sarà per campanilismo ma pensiamo che il nostro quello quanto hanno il migliore di quello di quello degli altri sono proprio caratteristiche diverse appunto date dalle zone perché può essere un vino può essere diverso praticamente se si usano le uve di questo di questa azienda o quelle di un'altra azienda a poca distanza però con delle caratteristiche di terreno totalmente diverse quindi insomma abbiamo delle differenze questo che vitigno è questo qui è il lambrusco roberti questo qui è un'azienda comunque di piccola produzione sì 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 una piccola produzione viene fatta questa questa raccolta a mano con le uve selezionate sulla pianta per fare le nostre bottiglie e per dare appunto una qualità e per esaltare al massimo la qualità di questi vitigni in questo territorio dove finisce il vostro lambrusco su quali tavoli un po' dall'italia no? no è abbastanza circoscritta la zona cioè diciamo che qui in questa zona viene apprezzato molto dai clienti finali dalla ristorazione ma ho notato che la ristorazione reggiana preferisce il nostro lambrusco montovano noi andiamo tra l'altro a fare da mangiare col tuo lambrusco ne? bene lo facciamo tu hai due tipi di lambrusco se non sbaglio esatto che tipi di lambrusco sono? abbiamo un lambrusco tipico montovano fatto con un blend di tre vitigni praticamente con l'encellotta gliadanese e il sarmino e poi abbiamo anche un tipico lambrusco scuro bello corposo di una certa gradazione e uno spumante rosato fatto con un 100% di lambrusco ruberti che viene spumatizzato e sui tortelli facciamo dei tortelli con radicchio? ci sta benissimo sicuramente andiamo a farli? va bene andiamo a farli Giulio ma tu sai fare i tortelli? no! vieni qua che ti insegno un apprendista, un maestro, 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 mettimi a posto guarda qua no no, il tortelli non sono capace eh? ma qua vedo che ci sono delle robe inne carine adesso ti insegno mi insegni? si 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 è ora che impari oh, allora fammi vedere allora che bello eh? carino eh? sto bene, sto bene allora dimmi assi la pasta si? bella ampia si impastatrice se vuoi che bella sempre planetaria a disposizione si un etto di farina un uovo ok? poi? poi una volta che abbiamo tirato la sfoglia si abbiamo tirato i modi per fare i tortelli ok da quale partiamo? dimmi tu eh... questo questo? semplicissimo stendiamo una sfoglia mettiamo i bocconcini di ripieno seconda sfoglia mattarellino passata e giriamo e abbiamo presentato abbiamo fatto i tortelli tutti uguali identici spettacolo e uno poi poi questo 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 invece per quelli più meticolosi uno vuole più grande lato più piccolo sai che dimensione a manto va questo invece con la sfoglia permette di tagliare con una passata unica diverse striscioline per fare i diversi tipi di di misura di di tortello e poi chiuderli a mano ok questo? questo invece sfoglia sempre i bocconcini altra sfoglia li chiudo con questo perché fuori c'è un espulsore perciò si staccano automaticamente uno a uno per chiudere con? quello che la rotella taglia e cuci taglia e cuci come dalla sarta sì cosa vuol dire? quando hai fatto la fai la la prima sfoglia metti ripieno la seconda sfoglia con unica passata i tortelli vengono tagliati e chiusi cuciti in modo che così non esce ripieno fantastico dopo però mi fai fare l'esamino adesso così sembra facile però eccezionale bene andiamo a impiattare? andiamo andiamo a impiattare mi sono tenuto la divisa perché sono apprendista tortello sei bellissimo apprendista tortello tanto guarda come mi sfila è uno spettacolo sei nuovo è una roba una roba guarda allora che meraviglia andiamo un po' a spiegare il tortello l'hai fatto il tortello l'ho fatto con radicchio con radicchio e con la divisina allora abbiamo richiamato i colori del radicchio con questo bellissimo color viola sì e il suo bicchiere naturalmente abbinato sempre in tinta anche in questa ricetta sembra che serviremo un ottimo lambrusco perciò con il suo calice sì adeguato e la tua solita piantina è una solita piantina un po' diverse se non sbaglio le posate si è una posata si è che facciamo sempre i contrasti classico e moderno e questa posata qua ha una particolarità non so se l'hai notato che il coltello ha questo manico che consente di tenerlo in piedi anziché nella posizione tradizionale dove la trovi sempre a tavola apprendista tortello andiamo quindi a cucinarli andiamo andiamo tanto salutiamo ciao amici siamo in cucina perché con l'ambrusco soprattutto con l'ambrusco bio si possono fare tantissime cose si possono fare delle cose notevole ne parliamo con i nostri ospiti allora ciao a Cristina Caramassi bentornata qui alla cucina di Telemantova e poi Giuseppe Rossi segretario del Consorzio di Montovani allora con l'ambrusco facciamo una cosa una chicca ne? si spera si spera allora facciamo dei tortelli facciamo dei tortelli con l'impasto fatto con il lambrusco e un ripieno di radicchio e ricotta allora quindi il lambrusco va all'interno dell'impasto dell'impasto ok procedimento quindi cosa facciamo adesso? procedimento cosa facciamo adesso di bello? quindi facciamo la pasta mettiamo farina farina un ovetto ce ne vogliono un paio ne? no faccio un tuorlo perché dopo mettiamo il lambrusco ma come ti è venuta questa idea di mettere ma io adoro le paste colorate le faccio con tutti i tipi con il cacao con il caffè con il lambrusco eccolo qua quindi lo mettiamo già subito immediatamente questo qua è il lambrusco che abbiamo visto prima nel servizio lambrusco bio consigliato col diretti e quindi già lo mettiamo all'interno dell'impasto si quindi bisogna capire diventa una pasta colorata su un marroncino si con il marroncino classico della farina insomma diciamo che si sente poi alla fine ma un po' si perché dopo vengono cotti nell'acqua e l'ambrusco per dargli un colore in più alla pasta si ecco poi alla fine quindi facciamo adesso l'impasto per questi tortelli all'interno dei tortelli cosa ci mettiamo? ci mettiamo un ripieno di ricotta mista pecore mucca radicchio parmigiano sale pepe un po' di noce moscata adesso tu nel momento in cui stai facendo adesso con la pasta poi successivamente come viene fatto il ripieno? dopo il ripieno adesso lo facciamo vedere c'è da tagliare il radicchio e tutte le starelle viene cotto con un po' di olio burro e sale e pepe mettiamo ancora un po' di farina intanto parliamo di vini di Lambrusco c'è tanto fermento ovviamente viene la battuta spontanea nel parlare di vini anche sul discorso della denominazione anche della territorialità soprattutto in vini come Lambrusco insomma che già fare qualche chilometro si cambia zona si cambia un po' anche il tipo di Lambrusco c'è all'orizzonte qualche nuova normativa qualche novità insomma si sta è un argomento molto compresso che poi è anche difficile da valutare stato per stato se parliamo di Europa se non sbaglio ma adesso va molto è quasi una moda di dire parlare di territorio sì perché un vino che qualifica un territorio è sempre una bella cosa certo anche perché si sa da dove proviene quel vino lì non è un vino che proviene che ne so io dal Sud America del Cilio è un vino del nostro territorio fatto dai nostri produttori e naturalmente fatto anche in un certo modo come Maril Disciplinare ne parla ecco ho letto che sembra che ci sia la voglia da parte della comunità europea di togliere le denominazioni questo forse è un male perché togliere le denominazioni al vino vuol dire insomma togliergli la sua anima possiamo dirlo possiamo dirlo sì esatto ma vuol dire anche proprio togliergli l'importanza del vino stesso perché se andiamo a vedere un DOC se andiamo a vedere un IGP se andiamo a vedere un vino da tavola sono tre vini che hanno delle caratteristiche diverse e queste proprio volute dal disciplinare di produzione certo speriamo che questa legge qui non vada in porto ma sia stata solo una notizia così di una riportata sul giornale e adesso staremo a vedere anche e mi hai detto anche prima ne stavamo parlando che i francesi invece sembrano essere particolarmente strano perché insomma sì esatto ma ci sono un produttore almeno da quello che ho capito io ci sono un produttore di champagne che si non è allineato con gli altri nel dire di sì che lui proprio è all'opposto vediamo cosa cosa riesce a fare con i propri colleghi se riesce a a convincerli insomma a mantenere questa denominazione che insomma è assolutamente importante ecco di Lambrusco e qua addirittura ci facciamo anche la pasta bravo mica cosa da poco insomma usare Lambrusco per fare qua una bella sfoglia ma questa la Cristina mi ha sorpreso la Cristina quando fa la pasta usa più Lambrusco che acqua perché lei fa molta pasta con Lambrusco ma replica 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 ma così i miei clienti vanno fuori che già sono già più quellanti lo dico bene perché ci sono stato da spesso lì alla Cristina ma tagliatelle ma maccheroni non parliamo del risotto alla Lambrusco ma gli spaghetti alla Lambrusco ah addirittura ma guarda quante cose che mi dice il buon Giuseppe quindi non solo tortelli fai un po' di tutto con ma il mio gratuismo si chiama il grappolo devo usare il vino esatto esatto e Lambrusco ovviamente mantovano per fare questa sfoglia allora qui cosa stiamo facendo io ho già tirato la pasta ok io ho già le ripieno adesso facciamo quindi adesso facciamo il condimento condimento quindi radicchio radicchio ah che bello radicchio del mio orto quindi tutta roba sua il vino è su il vino è su radicchio è su la pasta è su eh vedi esatto quindi con radicchio lo mettiamo dentro lo mettiamo dentro lo facciamo saltare un po' con un po' di olio con un po' di olio un po' di curo un po' di burro attenzione quindi radicchio olio questo per fare il ripieno la mettere poi no sì per fare il ripieno ma per fare il condimento per fare il condimento quindi ci mettiamo poi dicevi un po' di sale il sale ah che meraviglia poi e dopo ci mettiamo anche la pancetta allora mi dicevi Lambrusco lo metti nella pasta ma anche nell'acqua anche nell'acqua dei toratelli ok anche nell'acqua per fare i tortelli ecco ci mettiamo anche un po' un po' di burro di burro e così andiamo avanti nella nostra cottura sì e dopo la fine dicevi la ricotta hai detto che però hai usato un misto la ricotta è quella mista di pecora e di mucca perché è più saporita ah quindi fa più sapore più saporita diciamo che caro Giuseppe qui c'è dentro tutto c'è la farina c'è la verdura c'è il il vino le uova insomma bel piattino come si dice esatto esatto dov'è il tuo qua ci mettiamo anche un po' di landusco qui ma tanto che c'è giustamente tanto che c'è glielo mettiamo non c'è differenza per dire usare un vino per far da mangiare piuttosto che per no di solito usiamo il vino bianco esatto esatto non è mica ha detto che lo usiamo il bianco perché è più buono perché la roba viene anzi forse sarà anche più gustosa con il landusco poi lo diciamo mia cara Cristina fa anche un po' un po' più di scena avere il colore esatto col colore lo bianco non vede niente invece con il landusco diventa un po' colorato e adesso buttiamo dentro i nostri toratelli ok attenzione vediamo dentro guarda che belli vedi che belli a me quando in me davanti i tortelli mi sono sempre contento dopo dopo perché per me il tortello è ma non ero a dieta te eh una volta sì ma sono tortelli però leggeri cioè se li buttinare poi rimane in aria sì sì cioè non scendono hai capito sono tortelli leggerissimi ma che belli quindi con l'acqua dentro il vino ne hai detto attenzione così diventano un po' più scuri diventano un viol ho capito questi tortelli li ho fatti ad un concorso che l'hanno brava brava dimmi dimmi che l'anno scorso l'ha indetto col diretti di Bergamo sì che era un concorso sulle paste ripieni io ho presentato questi tortelli ok tanto per fare una cosa diversa tutti contenti? sono arrivata sono arrivata nona sui 17 agroturismi arrivata nona in gergo calcistico in zona champions league insomma ci siamo già 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 poi non mi ero impegnata molto quindi non mi ero impegnata molto che è che ha vinto? come si permette che è che ha vinto? è mantovano? sì allora va bene i primi tre posti sono arrivati tre mantovani oh bene un trionfo un trionfo mantovano allora dicevi la cottura dei tortelli quanto? pochino 10 minuti 10 minuti 10 minuti poi adesso qua stiamo facendo il nostro condimento il nostro condimento quindi la fase successiva qual è? dopo praticamente ci siamo quasi no? quasi la rimpiattata ok allora si cuociono allora torniamo poi al vino da mettere anche qua sia la pasta sia tutto quello che c'è da l'ambrusco e l'ambrusco lo si mette anche anche per accompagnare insomma i tortelli vanno mangiati con l'ambrusco è tutto a base di l'ambrusco perciò era impensabile mettere un vino diverso dal l'ambrusco insomma e per questo piatto qua io ho scelto questo l'ambrusco qua che è un buono vitigno di garpello ruberti si della cantina di carpi si che usa l'uva tutta l'uva della zona di poggio rusco sermide e in più anche quella del di adanese sabionetano ti fermo un attimo perché prima di stappare prendiamo una piccola pausa così impiattiamo e siamo già in scia in scia tortello benissimo siamo già in scia tortello a dopo vin brulee non è il vin brulee ma no ma è l'acqua è l'acqua per cuocere ma che meraviglia i tortelli i tortelli con dentro il l'ambrusco certo quindi guarda che roba guarda che colore guarda c'è anche il nostro il nostro cameraman Graziano che è lì che ci ha inquadrato che bravo Graziano adesso viene dentro mangiare i tortei si dice in dialetto guarda e te li frega a te dopo eh? te li frega a te? si si non si deve permettere allora tortelli li mettiamo dentro a questo condimento di buo olio radicchio e pancetta ok vino abbiamo detto vino l'ambrusco 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 mono vitigno di Grappello Roberti della cantina di Carpi perché come ho detto prima usa le nostre uve intanto io lo metto prendo il piatto per poi le uve mantovane lo mettiamo qua dentro che poi impiattiamo ed è un vino che secondo me proprio perché è vinificato anche dai modenesi ah che è Carpi e Modena si 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 per un soffio ah a quel cosina di modenese magari che lo rende diverso dagli altri attenzione quindi allora mettiamo sempre ecco così bravo sono diventato bravo ah insomma l'ambrusco l'ambrusco proprio questo qua l'ambrusco quello quello questo qui proprio l'ambrusco lo diciamo in dialetto quel camace bravo bravo io io prego intanto se possiamo mettere già se riusciamo a mettere qui ma che belli intanto io do un assaggino esatto prova eh si annusa poi tutte quelle scene lì non fai girare il bicchiere fai girare il bicchiere no aspetta ecco lì c'è il nostro caro Anas vediamo qua se buono buono aspetta che è quasi una bibita poi e poi insomma con proprio con quei tortelli lì è è l'ideale è buonissimo davvero è buono è buono sì complimenti allora ci siamo qua mettiamo anche questo qua mettiamo qui il bicchiere con il vino è già tutto pronto io ce lo do all'assaggino cosa dici vieni allora io do un assaggino posso? allora i tortelli sono anche belli grossi aspetta un attimo le tortelli va grosso giusto non so sarebbero le gli agnoli buoni buoni li mettiamo qua su eccoli qua allora ci hanno dato anche non sa mai allora tortelli con la pasta di lambrusco pasta di lambrusco e un ripieno di radicchio ricotta formaggio parmigiano con il vino lambrusco della della cantina di carpi mezzo mantovano e mantovano e mantovano e mantovano le uve sono solo mantovane ok allora quindi buon appetito a tutti e noi ci vediamo alla prossima ciao grazie a tutti